Siamo qui nel canale di Frank Mazzoni, pronti per la seconda edizione della guerra di... C'è l'acqua! Ragazzi siamo pronti, squadra bianca da un lato, squadra rossa da un lato. Siamo pronti, avvia, si comincia! 3, 2, 1, fuoco! Vieni! 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 Io sto all'albitro eh! Vieni! 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 Andate via via! Alla parte via del mare! Vieni! È passato! Per superare la linea ti bruciò fuori! Vieni! Bravo Edone! Abbiamo scattato uno per l'altro! Vale! Tirata! E' morto! Abbiamo abbastuto una barriera! Edone! E' morto! E' morto! E' morto! E' morto! E' morto! 4,2! Oho quelle mille! Non cliccanate years' Attaccatevi adesso! Attaccatevi la rossa! Attaccatevi la rossa! Non cerc comumicili! Infine dicono! Attaccatevi! Attaccategli la rossa! Non uscite dalle linee, non li buttò fuori. E lì ha eliminato, sei uscito dalle linee, sei rimasto lì. E lì ha eliminato, sei uscito dalle linee, sei rimasto lì. E lì ha eliminato, sei uscito dalle linee, sei rimasto lì, allora mi raccomando, non uscite dalle linee... E lì ha eliminato, non so io. E lì, nasconditi! Nasconditi! Nasconditi, vencina, volioni! Già sarò! Così è, sì! Mi ho sorto la sopra la tua linea! Guardia, lì, lì! Guarda! E lì, la storia è un problema. E lì... E lì... E lì, la guarda! Onde è lì? Sì! Ero il fuoco! Ero il fuoco! Sto facendo il piede! Sto guardando io, vai! Andiamo! Andiamo! No, andiamo! Staccato! No! Si! E via eliminato, sei uscito. Sì, l'ho uscito. Sì, l'ho fatta così. Allora, c'è una linea da mantenere. Sì, questa. Vai, voglio stare. Non si vede. Non si vede. Vi tirate su tutti. Stefano, non si vede. Ciao. Amor. 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 Sei davanti. Amor. 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 Sottiratene subito! Ma l'hai eliminato? No! Ah, l'hai eliminato? No! Ma cazzo! Ancora no! 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 C'ha massa! Qua! No! 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 Ok! C'è anche la bomba! Oh! E' la bomba! Oh! Sto là dentro! Ah! Edo! 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 Non l'ho fatto! Non uscite, non uscite! Non diamo niente, fai di fede a ritirare fuori le palle! Edo! 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 Edo, recupera le sabate per la tua squadra! Edo! Edo! Prendete! Prendete la bocca! Non la possono prendere! E via! Fatele cadere e poi le prendete! Non le prendere al volo! Fatele cadere e poi le prendete! E vai! E vai! Sì, non so che il pallone si fa. 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 guarda, guarda, guarda. vai, guarda, 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 guarda. Io per poco la gloria lo colpino, bravissima, hai chiesto la parola! Ma che te è una guarda! Lascia, lascia, lascia! Guarda! Guarda! Guarda!